Buonasera a tutti, bentrovati. Scusate, perdonateci il nostro ritardo, ma ogni tanto incappiamo in qualche problema tecnico e quindi però abbiamo risolto, quindi possiamo partire. Possiamo partire nel nostro viaggio, nel nostro secondo viaggio, verso la longevità. Quindi l'altra volta abbiamo trovato il dottor Franco Berrino, abbiamo chiacchierato con lui sulla nutrizione. Stasera invece siamo con la longevità in movimento, con due persone che ci teniamo insomma a farvi conoscere perché riteniamo che abbiano degli ottimi insegnamenti da darci. Il dottor Umberto Trecroci, cardiologo, esperto di nutrizione e micoterapia, che collabora e uno dei medici della Grande Via. E poi Fabio Cibriani, che è laureato in scienze promotorie e lavora con noi già da due anni con questo progetto, quindi fa parte di questa associazione ANSE, che adesso poi ci racconterà che cosa è. Ha vissuto sul campo, diciamo, l'esperienza del movimento, di tutto quello che abbiamo proposto ai nostri ospiti delle precedenti edizioni del progetto Longevità in Salute. Quindi vorrei partire da Umberto e chiedere al nostro dottor Umberto Trecroci un po' qual è sostanzialmente il senso del movimento fisico per le persone che hanno, quelle che noi abbiamo individuato insomma come longevi, le persone che hanno superato i sessant'anni e che quindi si avvicinano a un'età diversa della vita e quindi cosa può essere da cardiologo, qual è l'aspetto importante che possiamo mettere in evidenza per l'attività fisica, il movimento, cosa è necessario fare insomma a quest'età. Intanto, buonasera a tutti, ben trovati, so che siete numerosi, quindi questo ci fa molto piacere. Per quanto riguarda la domanda di Enrica, l'esercizio fisico, nelle malattie cardiovascolari, voi sapete che intanto le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nei paesi occidentali, molti pensano che si muoia di più di cancro, in realtà la prima causa di morte nei paesi occidentali sono le malattie cardiovascolari. L'esercizio fisico ci consente per esempio di correggere tutti i fattori di rischio cardiovascolari, all'eccezione del fumo, tutti gli altri, quindi la sindrome metabolica e tutti i fattori di dismetabolismo che sono appunto fattori di rischio cardiovascolari possono essere trattati direi quasi esclusivamente con l'esercizio fisico. Mi spiego bene, se voi pensate ai fattori di rischio cardiovascolari tradizionali che sono l'ipertensione, l'obesità, il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia, quindi il diabete, tutti questi fattori di rischio possono essere corretti quasi esclusivamente con l'esercizio fisico perché spesso sono correlati all'obesità che poi si trascina gli altri fattori di rischio. Quindi l'esercizio fisico fatto in maniera regolare è una grandissima terapia, una grandissima terapia in tutti quei fattori di rischio e quindi nella riduzione complessiva del rischio di eventi cardiovascolari. Un'altra cosa importante che voglio dirvi è questa, che prima a causa di morte nei paesi occidentali abbiamo detto che sono le malattie cardiovascolari, al secondo posto i tumori e poi ci sono le malattie neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer e poi ci sono malattie che non ci fanno morire ma ci fanno vivere male, che sono sempre le malattie dell'età adulta e sono spesso malattie degenerative osteoarticolari, quindi l'artrosi, tutte le malattie autoimmuni che sono malattie comunque invalidanti. Anche in questa parte, diciamo, in questo aspetto della medicina è possibile intervenire in maniera importante con l'esercizio fisico, quindi riducendo non solo la mortalità attraverso la correzione di quei fattori di rischio che vi ho detto prima, ma anche la morbilità, quindi questo ci consente di ottenere quell'obiettivo che noi perseguiamo come grande via, ottenere la longevità in salute, quindi non la longevità to cure, arrivare a una certa età, ma arrivarci stando bene, quindi correggere non solo i fattori di rischio delle malattie mortali, ma anche i fattori di rischio di malattie che non sono mortali, ma che ci farebbero vivere comunque male. Quindi l'esercizio fisico è fondamentale come terapia, è importantissimo, ci sono moltissimi lavori che ormai sono coerenti nel dimostrare che c'è un'importanza enorme nella correzione, ci sono anche tutti i razionali, perché sul diabete abbiamo visto come l'esercizio fisico abbia diversi meccanismi con cui riduce il diabete, tanto perché ci fa perdere peso, poi perché migliora la funzionalità del pancreas perché migliora anche l'azione dell'insulina, quindi riduce l'insulina resistenza, quindi facilita l'entrata del glucosio dentro le cellule e poi riduce l'ipertensione e poi riduce il colesterolo e quindi diciamo che l'esercizio fisico è fondamentale. Spesso mi dicono i pazienti, dottore, che si intende? Quanto esercizio fisico devo fare? Come deve essere l'esercizio fisico che devo fare? Allora, le linee guida della cardiologia, ma non solo perché, quello è un altro messaggio chiaro che voglio lanciare è questo, che la linea di prevenzione della cardiologia, quindi tutto ciò che noi mettiamo in atto per prevenire le malattie cardiovascolari, serve anche per prevenire le malattie oncologiche, cioè la linea di prevenzione delle malattie cardiovascolari e nelle malattie oncologiche è la stessa. Quindi tutto ciò che tu fai perché decidi, perché hai una familiarità o perché pensi di dover correggere i fattori di rischio cardiovascolare, ti porta automaticamente anche a ridurre il tuo rischio di sviluppare un tumore, perché la linea di prevenzione è comune. Ciò che fai per ottenere un beneficio nella riduzione del rischio di quelle malattie, ti fa bene anche nella riduzione del rischio oncologico. E tornando al discorso di cosa fare e come farlo, le linee guida della cardiologia dicono che è sufficiente fare 30 minuti di camminata a passo svelto, quindi di attività aerobica moderata, tecnicamente viene descritta. Poi magari se vogliamo entriamo nello specifico di cosa si intende attività aerobica di grado moderato. Per attività aerobica di grado moderato o 150 ore a settimana oppure 30 minuti al giorno. Se vogliamo poi magari ne approfittiamo anche per specificare cosa si intende per attività aerobica moderata, che io, come dico spesso ai pazienti, è fare una camminata a passo svelto 30 minuti di quella che fa sudacchiare un po'. Quindi deve essere non la passeggiata che possiamo fare magari quando andiamo per negozi e non deve essere particolarmente intensa da non consentirci per esempio una conversazione se siamo in compagnia. Se invece si vuole essere più tecnici e andare a guardare quello che possiamo fare avendo un cardiofrequenzimetro, per coloro che invece vogliono essere ancora più precisi nel definire il concetto di attività fisica moderata, si può fare un calcolo molto semplice che è un numero 220 meno l'età del paziente e poi rimanere in una frequenza che varia tra 65-70-80% della frequenza cardiaca massima. Quindi questo è un altro modo per mantenere il concetto di attività fisica moderata. Poi ecco, non so se ci sono altre cose che pensi che può essere utile. No, adesso volevo capire appunto perché il rischio per le persone magari appunto che hanno un'età più avanzata è sempre un po' la paura di potersi magari fare del male facendo attività fisica oppure comunque di avere un sovraccarico di lavoro. E quindi volevo chiedere un attimo anche a Fabio quali potrebbero essere invece le cose che siano rientrino in questa attività fisica moderata ma magari possono essere anche semplificate. Non so, un lavoro in acqua piuttosto che... E allora volevo sapere un attimo anche il suo parere tecnico di che cosa è più adatto per questa... Allora, intanto buonasera a tutti. Grazie anche da parte mia per questa partecipazione a questo fantastico evento. E per andare subito a rispondere alla domanda di Enrica, a livello di attività fisica, come poi magari durante questo evento andremo ad approfondire ancora maggiormente la nostra linea di pensiero è quella di andare ad agire su sistemi, sull'equilibrio, sulla visione, su tutte delle attività che attraverso appunto attività divertenti. La cosa che noi ci teniamo con il nostro progetto a trasmettere anche durante i nostri eventi è che l'attività fisica che deve essere svolta deve essere un'attività divertente, entusiasmante per poterci permettere di continuare a farla. E quindi sì, dalle camminate chiaramente preferire le camminate in natura, perché la natura è un importante stimolo per i nostri occhi, per le nostre orecchie, non è mai un'andatura ripetitiva, ci sono dei dislivelli, quindi quello anche a livello cardiocircolatorio ha un impatto alza, bassa, ai battiti, la frequenza cardiaca, quindi lavorare un pochino sulla forza, soprattutto degli arti inferiori, e ci sono tutte delle serie di attività che poi noi durante i nostri eventi facciamo fare e insegniamo e proviamo a far capire alle persone che bastano poche abitudini virtuose da fare nella vita di tutti i giorni e che con un impegno costante in poco tempo si possono comunque raggiungere dei risultati importanti per il nostro benessere e per la nostra salute. Quindi tutto ciò che deve essere fatto dal nostro punto di vista comunque il più possibile per spingerci fuori da casa a contatto con la natura, questo ci tengo a precisare. E quanto è importante l'attività, ad esempio, in acqua, proprio per non sforzare? L'attività in acqua è fondamentale perché chiaramente l'acqua è un elemento della natura, intanto, e poi ci permette di essere più leggeri e permettere di lavorare sul range of movement, quindi sulla mobilità delle articolazioni in maniera più semplificata rispetto a farlo fuori dall'acqua. È divertente, è coinvolgente, insomma, ci sono tantissimi benefici con i lavori in acqua, infatti è uno degli elementi che chiaramente durante gli eventi affrontiamo, quindi l'acqua è importantissima. Erika, se posso permettermi un attimo di... Sulla attività, anche Roby che ha visto che hai detto gli anziani possono temere il rischio di non ponderare bene il tipo di attività e quindi dire sto facendo bene o sto facendo troppo? E quindi se faccio troppo e sbaglio, cosa può succedere? In realtà, niente, nel senso che un'attività fisica moderata, come l'abbiamo definita, io ho detto camminata veloce a passo svelto, è chiaro che poi all'interno di questo concetto c'è il nuoto, c'è la ciclette, anche se la ciclette è meno efficace della camminata, però l'attività fisica svolta in questo modo, come la stiamo descrivendo, serve anche nelle persone in sovrappeso obese per migliorare l'aspetto articolare perché durante l'attività fisica i muscoli producono delle sostanze che intanto hanno un'attività neurotrofica, quindi migliorano anche l'umore e poi l'attività endorfinica, quindi svolge un'azione antinfiammatoria, quindi anche persone che hanno magari delle patologie osteoarticolari in realtà hanno beneficio da questo tipo di attività fisica moderata, quindi non c'è un pericolo di sovraccarico una volta che stiamo definendo bene il concetto e i criteri di attività fisica moderata. In realtà hanno un beneficio anche nella prevenzione dell'osteoporosi, quindi quel tipo di attività fisica, anche nelle donne in menopausa, funziona anche nella prevenzione dell'osteoporosi. Quindi volevo approfondire sull'osteoporosi perché è uno dei temi più sentiti, secondo me, a una certa età. Quindi cosa ci racconti relativamente all'iscusa dell'osteoporosi? L'osteoporosi sicuramente ha, ecco, le tre vie che sono i pilastri della grande via funzionano benissimo, la via del cibo, del movimento e la via della spiritualità lavorano benissimo perché sicuramente lo stress è un fattore anche infiammatorio e quindi combatterlo attraverso la via della spiritualità riduce il rischio perché cos'è l'osteoporosi in fondo? È una malattia infiammatoria dell'osso, tra l'altro è anche un fattore di rischio cardiovascolare, c'è una relazione anche diretta, cioè le donne che hanno un'osteoporosi avanzata hanno un rischio maggiore di malattie cardiovascolari perché c'è un'alterazione del metabolismo, del calcio, per cui il calcio anziché andare dove deve, cioè nelle ossa fortificandole, va nella parete delle arterie, le calcifica, le indurisce e quindi aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Quindi l'esercizio fisico non solo riduce l'infiammazione attraverso proprio l'attività, la pratica, ma anche fortifica la struttura ossea, quindi si innescano dei meccanismi per cui si fa un'attività di prevenzione dell'osteoporosi, che prima il passaggio intermedio è l'osteopenia. Quindi i principi cardine della prevenzione dell'osteoporosi sono sicuramente una dieta sana, bilanciata, quindi ridurre il cibo animale perché questo acidifica l'eccesso di cibo di proteine animali e soprattutto dei latticini. Lo dico perché è un'altra leggenda che è ancora diffusa perché i pazienti me lo chiedono e i latticini nella prevenzione dell'osteoporosi, in realtà l'eccesso di cibo animale e di latticini favorisce lo sviluppo dell'osteoporosi perché ti aumenta l'eliminazione del calcio attraverso le urine, quindi in realtà tu perdi calcio con le urine e poi, diciamo attraverso il metabolismo del paratormone, il calcio viene preso dalle ossa per riportare la calcemia a valori normali, quindi mangiare troppo cibo animale e in particolare i latticini che si pensa invece facciano bene alla prevenzione dell'osteoporosi aumenta il rischio di osteoporosi e poi la supplementazione di vitamina D laddove venga documentata una carenza, quindi ricordarsi che la vitamina D è importante e deve avere valori per la riduzione dell'osteoporosi, quindi gli effetti diciamo scheletrici della vitamina D si hanno quando i valori di vitamina D sono superiori a 30, per cui dosarla, se sotto i 30 supplementarla con 2000 unità al giorno, se sopra i 30 vuol dire che l'esposizione annuale di quel paziente è sufficiente per avere valori compresi diciamo tra 30 e 50 e quindi che lo proteggono, quindi alimentazione, supplementazione solo di vitamina D perché lì è difficile averne in quantità adeguate solo con l'apporto alimentare o magari dell'esposizione solare in soggetti che vivono in delle latitudini dove non riescono ad esporsi abbastanza al sole e poi l'esercizio fisico sicuramente e la riduzione del peso perché l'obesità è un fattore di rischio predisponente l'osteoporosi, quindi è chiaro che una donna in sovrappeso o obesa ha un rischio maggiore di sviluppare l'osteoporosi. Ascolta, invece per chi ha problemi articolari che cosa consigli tu? In senso come tipo di attività fisica o in generale? No, 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 parliamo di attività fisica Beh, articolari bisogna dire di che tipo? Spesso i problemi articolari vengono sempre accentuati dalla sedentarietà, cioè i pazienti spessi che hanno la forma di artrosi quindi parliamo di problemi articolari dell'età adulta spesso e l'artrosi di tipo degenerativo a meno che non abbiano patologie autoimmuni o infiammatorie che generino patologie articolari quindi diciamo la forma più comune dopo l'osteoporosi e l'artrosi sicuramente l'artrosi i pazienti ti raccontano che quando si svegliano la mattina hanno male man mano che iniziano il movimento stanno meglio quindi sicuramente un'attività fisica aerobica quello che abbiamo già specificato che può essere la camminata oppure anche una ginnastica dolce poi lì bisogna effettivamente cercare di capire quale sono le preferenze di ciascuno perché vedo che spesso i pazienti quando suggerisco alcune cose mi dicono eh ma quello non mi piace, la piscina mi annoio cioè giustamente bisogna proporre ognuno secondo la propria sensibilità deve trovare qualcosa che... personalizzare l'esperienza esatto perché deve anche piacerti sennò diventa un lavoro si fa fatica però vedete ad esempio il divertimento deve essere dal mio da quello che facciamo noi preponderante perché altrimenti una persona non riesce a portare avanti con costanza che confermami la costanza alla fine è quello che fa tutta la differenza nel movimento e nell'esercizio fisico assolutamente e poi per ribadire quello che dicevi tu anche sulla vitamina D quindi l'attività fisica preferibilmente fatta all'aria aperta perché quello chiaramente ci espone maggiormente alla luce, ai raggi solari assolutamente sì però mi parlavi Roberto prima anche del discorso della ginnastica dolce allora una delle domande secondo me che più le persone si pongono è poniamo adesso va di gran moda anche lo yoga, il tai chi cioè tutte queste discipline che vengono dall'oriente e che hanno la capacità di in qualche modo rendere più elastico il corpo di rilassare la mente eccetera eccetera ecco tutto questo però a livello fisico cioè ad esempio una persona che fa regolarmente pratica yoga secondo voi il vostro parere è sufficiente per mantenersi in un buono stato di salute oppure oltre allo yoga che è molto dolce insomma parliamo sempre di uno yoga non troppo energico bisogna comunque integrare magari anche appunto con le camminate o con un altro tipo di attività magari per irrobustire il corpo cosa mi dite? Fabio? Allora dal mio punto di vista chiaramente le camminate quindi l'attività come giustamente ha detto Umberto cardiovascolare di intensità moderata è da preferire su cioè comunque da rendere prioritaria poi sicuramente in sicurezza e in totale diciamo essendo accompagnati da professionisti che lo sanno che sanno portare avanti quel tipo di esercitazioni anche comunque andare a lavorare un pochino sui muscoli dal mio punto di vista è fondamentale perché ti dà quello stimolo extra per evitare la sarcopenia e quindi andare incontro poi a una riduzione del tono muscolare insomma sì l'attività aerobica ma dal mio punto di vista anche la ginnastica dolce e un qualche piccolo lavoro mirato quindi più qualità andare più sulla qualità e non tanto sulla quantità anche sulla parte muscolare non so se Umberto concorda con quello che... Sì no no concordo perfettamente sostanzialmente la domanda di Enrique era legata al fatto se è sufficiente fare yoga tai chi, qigong comunque che sono prevalentemente tutte pratiche orientali che noi abbiamo preso e fatto nostre devo dirti la verità io dei pazienti quando fanno yoga o pilates adesso io lo consiglio sempre perché quello che manca spesso è anche la parte diciamo emotiva emozionale e spirituale quindi quando non c'è tanto tempo per fare tante cose io devo cercare di ottimizzare valuto caso per caso magari dove è più carente se nella parte emotiva, quel paziente lì nella parte fisica e quindi aggiusto il tiro caso per caso perché poi noi stiamo parlando di una fascia di età la popolazione anziana dentro questo range c'è il sessantenne c'è l'ottantenne quindi magari come va oggi giustamente di moda la medicina di precisione cercare di fare, di costruire su misura un vestito caso per caso quindi adesso noi stiamo dettando delle regole di buonsenso di carattere generale che sono trasversali poi ogni caso per caso noi adattiamo anche le indicazioni appunto in base al tipo di paziente che abbiamo di fronte alle caratteristiche del singolo paziente sicuramente yoga o pilates o tai chi quindi le arti marziali sicuramente sono già per alcuni tipi di soggetti molto anziani è già un tipo di attività che può andare bene che potrebbe essere sufficiente poi anche lì dipende torniamo al discorso di prima dalla disponibilità del tempo della passione se riesce a far tutto perché poi gli diciamo vai in palestra tre volte yoga due volte in palestra allora devi cercare anche e lì ti confronti e dice tu quanto tempo puoi partendo da questa base che è il minimo per curarti bene quindi io ti dico il range tu devi fare questo dovresti far questo per star bene poi oggi c'è anche una richiesta forte di riduzione dei farmaci delle terapie almeno i pazienti che vengono da me spesso hanno una delle richieste proprio questa dici dottore io prendo dieci pastiglie io ne vorrei prendere di meno ci sono degli strumenti ci sono delle strade perché o hanno degli effetti collaterali che ci stanno ci possono essere e poi perché in effetti il paziente se non prende farmaci non si sente malato quando li prende anche se sta bene mentalmente ha l'idea di sentirsi malato poiché assume della terapia quindi liberarsi di alcuni farmaci cosa che può avvenire assolutamente quando soprattutto sono pazienti fortemente in sovrappeso obesi e ti dà il senso della guarigione quindi sto bene sono guarito non devo più prendere il farmaco quanto incide la nostra mente anche nella creazione del nostro corpo e comunque di tutto l'intero sistema che ci circonda quanto è importante il potere della mente di dirci che siamo in forma che possiamo correre che possiamo camminare che possiamo fare oppure che in qualche modo ci adeguiamo a ciò che la società ci racconta che dopo una certa età siamo vecchi e di conseguenza non più adatti magari a svolgere anche un'attività fisica ad esempio quindi quanto quanto riusciamo con la mente la mente è praticamente tutto cioè in realtà noi i nostri pensieri condizionano la nostra salute in maniera totale nel bene e nel male ormai anche nel campo oncologico ma anche nelle malattie cardiovascolari il paziente che vedo io che ha una patologia cardiovascolare l'approccio che ha la malattia determina anche la sua prognosi assolutamente quindi sicuramente i nostri pensieri veramente possiamo dire come mantra che condizionino la nostra salute e quindi la motivazione è tutto quindi la motivazione vuol dire la voglia di raggiungere quell'obiettivo è la spinta fondamentale cioè senza quella senza questa forma di entusiasmo quindi non si riesce a ottenere nessun obiettivo quindi un medico deve lavorare su questo aspetto motivazionale guidare il paziente in un percorso facendogli comprendere che può raggiungere quell'obiettivo che non è impossibile e poi distinguere sempre come faccio io quando trovo pazienti che come te mi dicono dottore ormai io sono vecchio no esiste l'età biologica l'età fisica l'età mentale queste tre età non corrispondono mai e quindi io guardo l'età biologica quindi io da medico cardiologo quando vado a studiare le arterie il cuore in effetti non c'è corrispondenza perché mi posso trovare un cinquantenne che ha le arterie di uno di ottant'anni e un ottantenne un settantenne che ha le arterie di uno di un cinquantenne vi faccio l'esempio delle arterie ma potrebbe essere per qualunque organo e quindi alla fine questo configura un quadro di età biologica che è diversa e quindi questo stereotipo che noi dobbiamo adattare in base alla nostra l'età anagrafica perché la società ci giudica in base all'età anagrafica io dico sempre l'età anagrafica è un pregiudizio quindi via la eliminiamo e guardiamo l'età biologica e poi le motivazioni quello che vogliamo fare e quindi la spinta e la motivazione di un percorso è tutto perché io nella mia vita professionale ho visto raggiungere dei grandi obiettivi in pazienti che appunto anche dopo un infarto prendevano dieci pastiglie hanno cambiato cioè hanno utilizzato la patologia come opportunità per migliorare la loro vita che è brutto pensarlo perché debba arrivare prima un problema di salute però è stata un'occasione per rendere migliore la loro vita quindi hanno trovato quelle motivazioni che magari prima da sole non erano riusciti a trovarlo ma hanno fatto un cambiamento radicale quindi il cambiamento è possibile ma da dove è partito non dal medico perché i medici che gli avevano detto di fare quelle cose li avevano incontrati anche prima ma non aveva funzionato ha funzionato quando la loro mente ha deciso che doveva funzionare e lì è cambiata la loro vita quindi il nostro obiettivo è quello di evitare che i pazienti e lì dobbiamo essere bravi che i pazienti rendano straordinaria la loro vita e la cambino in meglio prima che insorga un problema di salute perché queste patologie le patologie principali che noi cerchiamo di contrastare sia quelle oncologiche che quelle cardiovascolari che neurodegenerative sono molto difficili da curare una volta che insorgono però invece sono facilissime da prevenire perché sappiamo ormai tutte le basi scientifiche sulla patogenesi e quindi abbiamo gli strumenti per poterle prevenire quindi dobbiamo essere bravi noi a creare la motivazione la spinta giusta nel paziente perché mette in atto una serie di comportamenti virtuosi prima che insorga il problema quindi lavorare sull'aspetto motivazionale perché è tutto che tra l'altro faccio un intervento un secondo uno dei risultati maggiori Enrica non so se ti ricordi degli ultimi eventi che abbiamo avuto è proprio quello della motivazione e la cosa più bella che ci è capitata sono proprio stati i ringraziamenti delle persone con cui siamo entrati in empatia che ci hanno detto grazie a voi ho capito di potercela fare cose che non non pensavo di riuscire a fare ho ritrovato la motivazione l'entusiasmo l'energia e adesso ho capito di poterlo fare quindi quello veramente l'età l'età insomma anagrafica è un'illusione e non deve essere limitante ma infatti Fabio ho visto che tu hai vissuto questa esperienza proprio diretta per cui sai magari parlarne è facile ma vivere direttamente a contatto con queste persone che sono state con noi in questi seminari eccetera eccetera che quindi hanno le abbiamo viste arrivare in un certo modo abbastanza forse increduli e poi cos'è che ti ha stupito di più di questa esperienza cos'è che hai vissuto con più entusiasmo allora la cosa la cosa che ho vissuto con più entusiasmo sono state le nostre prove perché poi noi non facciamo dei veri e propri test alle persone quando arrivano ma sono più delle prove per far capire come alcuni tipi di sistemi si irrigidiscano purtroppo con il tempo e che con diciamo appunto poche attività e abitudini virtuose si possono cambiare la cosa che mi ha emozionato di più è stata vedere le facce delle persone alle prime prove e poi alle ultime prima di andare via e dicevano non è possibile che io non sia stato in grado di fare un'attività così semplice e adesso dopo due settimane di divertimento di compagnia di nutrizione nella maniera corretta di esercizio fisico adesso solo dopo due settimane sono stato in grado di farle infatti veramente questa è una cosa che mi ha cambiato e emozionato tantissimo proprio ricevere il ringraziamento di alcune persone che mi hanno detto mi avete cambiato la vita e questo è stato per me è la cosa che mi ha emozionato e segnato di più e che mi porterò con me per sempre quindi spero di continuare attraverso poi il lavoro di tutto il team perché poi chiaramente non sono da solo ma sono supportato anche il lavoro insieme a un grandissimo professionista che è Daniele Tognacini che poi è il nostro faro guida per quanto riguarda l'attività fisica durante i seminari facciamo vogliamo riuscire a entrare in contatto con più persone possibili proprio per dimostrargli che insomma si può fare questo veramente è stato per me anche se sono giovane è stato veramente toccante emozionante guarda mi sono quasi messo a piangere agli ringraziamenti finali non so se ti ricordi quindi per le bellissime parole che poi abbiamo abbiamo ricevuto da tutti infatti volevo volevo un attimo raccontare in due parole insomma questo questi seminari che facciamo che il primo tra l'altro partirà dal 14 al 28 di aprile nelle bellissime colline del Chianti a Figline Valdarno in questa villa veramente molto 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 suggestiva dal grande fascino circondata dal verde dove appunto dove appunto la grande via è ANZ che è questa associazione di cui anche Fabio fa parte lavoreremo tutti insieme per ottenere un grande risultato come quelli che abbiamo già ottenuto di trasformare e riattivare le persone dopo i 60 anni ma qualcuno ci chiede anche se è possibile magari venire anche prima e noi abbiamo detto di sì perché appunto perché non esiste un'età anagrafica chiunque si senta in qualche modo di aver bisogno di ritrovare la sua energia vitale cioè ritrovarla intatta riuscire a recuperare del tempo perso e del così magari anche a volte proprio una tristezza esistenziale eccetera 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 noi riusciamo abbiamo l'abbiamo visto l'abbiamo dimostrato assolutamente in sole due settimane a ridare proprio innescare un cambiamento così forte nelle persone che ci ringraziano quello a cui si riferisce effettivamente la commozione degli ultimi giorni in cui effettivamente le persone dicono non pensavo che avrei potuto utilizzare questo mio tempo per fare qualcosa di così importante per me quindi sono seminari che poi ciclicamente in questa stagione ripeteremo quindi li faremo in maggio li faremo in giugno li faremo in settembre saranno vari momenti vari momenti che danno tutti la possibilità insomma di poter di poter sperimentare su se stessi che è un cambiamento possibile che l'età anagrafica non corrisponde necessariamente all'età che il corpo e la mente ci raccontano bisogna ritornare a essere super adulti non bisogna sentirsi anziani ma super adulti questo è come ci piace definire le persone in quella fascia di età noi perché non bisogna chiamarsi anziani o definirsi anziani infatti abbiamo definita generazione oro proprio per raccontare la preziosità di questo metallo che è l'oro insomma considerato da sempre come la cosa principale più importante di grande pregio e valore e quindi vogliamo proprio restituire a queste persone la sensazione che questa età non sia un'età difficile con magari problemi di salute eccetera eccetera ma che se ci si prende cura davvero di se stessi può diventare un'età preziosa un'età in cui le esperienze della vita vengono messe a frutto e tutto ciò che si è vissuto in qualche modo diventa trasmissibile anche ad altri e poi ecco infatti una cosa che mi chiedevo quanto secondo te ad esempio è stato importante anche l'incontro tra le persone quanto la socialità delle persone che tu hai visto insomma quanto quanto vale in tutta questa cosa guarda tantissimo soprattutto io vedere delle amicizie dei gruppi che si sono creati che a distanza di ormai i primi che abbiamo fatto sono stati due anni fa persone che continuano ad incontrarsi e a vivere esperienze insieme dopo che si sono conosciute ai nostri seminari è un valore che dà soddisfazione dà una soddisfazione incredibile è proprio un'età dove giustamente come dicevi tu le persone devono vivere avendo la speranza di potersi continuare a togliere delle soddisfazioni e la socialità l'empatia che si crea facendo queste esperienze divertenti coinvolgenti a contatto con la natura in queste panorami con questi panorami incredibili nel Chianti è uno dei tasselli che rende queste esperienze veramente segnanti riescono a creare una pietra miliare su cui poi costruire la vita successiva perché tantissime persone quando sono venute ci hanno detto da ora in avanti è come se iniziassi una nuova vita e veramente penso che la forza del gruppo sia stato fondamentale nel raggiungere quel tipo di obiettivo perché veramente ora non voglio fare i nomi con le persone ci sono delle persone delle persone che mi scrivono tuttora da due anni con cui mi sento ed è bellissimo cioè non voglio tirare fuori i nomi come? abbiamo stabilito comunque di farli per almeno una settimana perché abbiamo visto che perché questi valori cambino effettivamente l'ideale è prendersi quattordici giorni che se uno ci pensa nell'arco di un anno quattordici giorni sono veramente nulla però è un tempo così profondamente dedicato a se stessi i cui benefici si vedono poi durante tutto l'anno e quindi noi chiediamo di fare possibilmente questi quattordici giorni anche proprio per fare degli esami del sangue prima e verificare direttamente il cambiamento poi nei quattordici giorni successivi però è possibile fare anche una settimana cioè l'importante è portarsi a casa qualche cosa che poi possa rimanere nel momento in cui uno ritorna nella sua quotidianità può avere però degli strumenti per muoversi poi durante tutto il resto del tempo no? a piccole abitudini virtuose esatto che voi infatti prima di prima che le persone se ne vanno voi spiegate sempre ogni volta facciamo che cosa può essere un ripasso proviamo a dare gli strumenti da portare l'obiettivo è quello proprio di provare a dare gli strumenti da portarsi a casa esatto esatto invece volevo chiedere a Umberto per il discorso allora le tre vie le abbiamo accennate prima sono la via del cibo la via del movimento fisico di cui stiamo parlando però noi parliamo anche di un'altra componente che è la via della spiritualità quanto secondo te Umberto dal punto di vista dell'equilibrio interiore ed esteriore della persona quanto incide la spiritualità in questo processo di ritrovare se stessi e riprendere forza e energia anche a un'età magari un po' più avanzata come ti dicevo prima per me delle tre vie ne abbiamo parlato spesso anche di questo aspetto delle tre vie che noi proponiamo come vie della longevità quella che considero la principale semmai si può fare un'idea di scaletta di priorità quindi dare delle classifiche primo, secondo e terzo posto ho sempre considerato la via della spiritualità la più importante perché ho visto come l'aspetto emotivo condizioni moltissimo la salute delle persone anche a parità di attività fisica e un'alimentazione adeguata quando c'è un atteggiamento per esempio depressivo di un paziente è difficile riuscire a venirne fuori cioè i risultati sono sicuramente peggiori quindi se dovendo fare un esempio giusto per far cogliere in maniera pratica se io prendo un paziente depresso che mangia male riesco ad ottenere un obiettivo migliore peggiore su un paziente felice che però mangia male quindi un depresso che mangia bene ha un risultato peggiore di una persona felice che mangia male quindi posto che è importante mangiare bene non siamo qui a dire che dobbiamo mangiare male però era solo per rispondere alla tua domanda come sia veramente fondamentale l'aspetto della felicità quindi promuovere ed alimentare sentimenti positivi atteggiamenti positivi quindi io vedo che persone felici che persone che non coltivano sentimenti di rancore di rabbia o comunque che non vivono una vita di tristezza quindi che sono felici per quello che hanno e perché dico questo perché poi questo come si lega l'aspetto della spiritualità perché le persone che hanno una vita spirituale spesso danno molto valore a questo ovviamente la spiritualità nell'ottica della fede cristiana e chi pratica quindi chi vive pratica la religione spesso ha un atteggiamento molto simile a quello che ti sto descrivendo quindi anche nella difficoltà trova una motivazione una spinta forte per reagire attraverso la forza che gli viene dalla fede quindi nella mia esperienza ho visto che le persone per esempio che hanno una fede vissuta praticata quindi non solo teorica ma praticata hanno dei risultati che chi non ha questo tipo di forza e di propulsione non ce la fa ad ottenere anche se corre anche se mangia bene ma a parità di queste condizioni la spinta propulsiva più forte è quella delle persone che hanno una vita spirituale io dico spirituale e poi parlo di fede di religione perché è vero che noi possiamo anche fare come abbiamo già fatto apprendere la parte spirituale dell'Oriente attraverso yoga o tai chi o quello che vogliamo ma la spiritualità la via della spiritualità in occidente è stata sempre la preghiera quindi noi abbiamo sempre pregato abbiamo coltivato questo aspetto attraverso la preghiera attraverso la fede e anche nel mondo della scienza viene riconosciuta in maniera ufficiale quindi io quando per esempio i pazienti ma anche a quelli che mi dicono che non credono io consiglio la preghiera come formula come mantra perché la scienza mi autorizza a fare questo mi autorizza a dire al paziente guarda che io ti dico che ci sono evidenze scientifiche che per esempio la recita del rosario riduce la mortalità totale che vuol dire la mortalità totale vuol dire che muori meno di tutto e questo è un termine che noi utilizziamo in medicina per esempio perché ci sono dei farmaci che utilizziamo ad esempio i cardiologi usano dei farmaci che riducono la mortalità cardiovascolare ma non la mortalità totale vuol dire che io ti do un farmaco che ti riduce il rischio di morire di infarto ma forse ti aumenta sensibilmente nel lungo periodo il rischio di morire di tumore quindi ti sto solo cambiando ciò di cui morirai ecco perché ho specificato la mortalità totale perché con i farmaci non sempre otteniamo questo risultato invece la preghiera come dire non ha effetti collaterali non ha controindicazioni quindi gli studi che sono stati fatti per verificare l'effetto della preghiera e quindi della via della spiritualità hanno dimostrato che chi pratica chi prega riduce la mortalità totale quindi è un beneficio per tutte le patologie per cui sicuramente la via della spiritualità è quella principale e oggi noi siamo veramente i tempi che abbiamo vissuti senza è difficile dimenticarci la pandemia ma non perché sia passato poco tempo perché sono cose che noi che l'abbiamo vissuta li ricorderemo per tanti anni e anche in questa situazione difficile cioè chi ha una spiritualità forte le prove a cui siamo sottoposti nella vita li affronta e li vive in maniera completamente diversa quindi così come esiste la palestra del corpo dico ai miei pazienti che devono fare anche la palestra dell'anima perché dico scusa se tu vuoi fare la maratona qualche paziente fa la maratona di New York e si preparano quindi vengono a fare i controlli cardiologici per essere sicuri di poterla affrontare in sicurezza e allora cosa fanno però non è che prendono e partono a fare la maratona si allenano si allenano si allenano per migliorare la loro capacità la loro resilienza all'esercizio bene questo atteggiamento va fatto anche sull'aspetto spirituale ci vuole un allenamento una palestra dell'anima dello spirito quindi le persone che pregono in maniera costante aumentano la loro forza spirituale quindi sono più forti nell'affrontare le prove che comunque ci capitano nella vita va bene ma questo è l'incidenza voglio dire ogni religione ha le sue caratteristiche ogni forma di spiritualità noi parliamo infatti di spiritualità e comunque far sì che l'essere umano sia effettivamente in grande armonia con l'universo perché le prove a cui è sottoposto chiaramente se è in armonia con tutto ciò che lo circonda è sicuramente una cosa molto più importante adesso io invece passando proprio da una cosa così volevo chiedere un attimo a Fabio la giornata tipo nel senso noi di solito cominciamo con lo yoga ma proprio come al di là del discorso che possa venire dall'Oriente è proprio una pratica che in qualche modo rilassa profondamente il sistema e rende elastico il corpo poi però nel corso della giornata ci sono vari momenti legati in qualche modo sempre all'attività fisica chiamiamola al movimento quali sono proprio le cose principali della giornata quali sono i momenti a livello sportivo diciamo chiamiamolo sportivo principali della giornata allora sicuramente infatti tutti i giorni durante i nostri eventi lavorare attraverso lo yoga sulla flessibilità dei muscoli sulla mobilità delle articolazioni è fondamentale poi ogni giorno noi dedichiamo diciamo un obiettivo un argomento e scegliamo un'attività tutte fatte all'aria aperta tutte divertenti in sicurezza dedicandoci maggiormente a magari un giorno più sull'equilibrio un giorno più sui tempi di reazione che è un'altra cosa fondamentale su cui lavorare perché man mano che si va avanti con l'età avere dei riflessi sempre pronti è fondamentale un giorno dedicato magari un pochino di più al rinforzo degli arti inferiori un giorno al rinforzo degli arti superiori sempre dando un focus particolare alle entrate sensoriali comunque facendo sempre attività attività fisica che ci diano comunque degli stimoli da analizzare le entrate sensoriali sono ciò che connette diciamo il nostro sistema nervoso con l'ambiente che ci circonda quindi tutti i momenti sportivi chiamiamoli sportivi di movimento che noi andiamo a proporre andiamo a far fare in cui guidiamo le persone vanno a stimolare in maggior maniera possibile queste entrate sensoriali perché tenere le entrate sensoriali attive è il miglior diciamo modo per mantenere il nostro cervello sano scattante plastico e quindi poi per andare nel pratico le nostre attività vanno appunto dallo stare in acqua allo stare sulla sabbia giocare con palline palloni arrampicarsi sulle corde io non so se ricordi Enrica una delle esperienze più belle che abbiamo fatto è quella stata quando abbiamo fatto arrampicare e le persone inizialmente pochissimi volevano approcciarsi a quel tipo di attività poi una volta che hanno visto l'entusiasmo con cui l'hanno affrontata diciamo quelli un po' più coraggiosi inizialmente tutti si sono lanciati e tutti hanno voluto provare l'esperienza dell'arrampicata che è un altro elemento che viene curato pochissimo e che in realtà è uno dei movimenti innati nell'essere umano che non viene mai allenato e questo ci fa ritornare bambini un'altra cosa bellissima di cui abbiamo avuto l'esperienza le persone che dicevano non mi divertivo così da quando ero bambino per me è bellissimo poi altre attività che facciamo sono la bicicletta in e-bike chiaramente perché poi siamo in chianti quindi non vogliamo andare a fare un'attività troppo intensa che poi ci distorce e non ci permette di godere dell'ambiente fantastico che ci circonda camminate al chiaro di luna insomma ora non voglio poi spoilerare per spoilerare tutte le attività però ecco veramente tante cose infatti direi che la cosa che rende più completo questo questo tipo di seminari è proprio l'unione delle tre cose noi prestiamo molta attenzione al cibo quindi le persone mangiano in un modo corretto ma imparano anche a mangiare cioè imparano anche a cucinare per quando torneranno nelle loro abitazioni ci curiamo appunto di tutta la parte fisica con una costante diciamo con un costante movimento fisico di tipo variegato ma comunque ogni giorno avviene sempre una parte fisica e chiaramente facciamo molta attenzione anche alla parte diciamo spirituale della consapevolezza quindi attraverso lo yoga attraverso l'incontro con determinate persone perché chiaramente noi facciamo anche incontrare persone che sollecitano delle tematiche per cui questo questo è un altro aspetto che io ho visto veramente avere un impatto degli incontri fatti con appunto per parlare della via della spiritualità veramente che da un giorno all'altro incontri con professionisti ricordo l'incontro con il Monaco e c'erano stati tanti eventi tanti ospiti che mi hanno a me personalmente segnato e quindi ogni giorno lavorare sulla nutrizione la spiritualità e il movimento è una ricetta vincente sì sì perché nessuna delle tre cose basta a se stessa cioè vanno proprio fatte secondo me sono i tre sentieri che portano effettivamente a integrati questi sentieri portano davvero a modificare delle cose e invece io volevo chiedere a Umberto un'altra questione invece che ci si ponevano il problema normalmente nello sport esistono nel mondo sportivo non in quello di cui noi parliamo ma nel mondo sportivo abbastanza classico si parla spesso anche di di proteine oppure di integratori se le proteine non bastano cioè di arrivare a dei risultati in qualche modo prestazionali di un certo tipo che è molto lontano da questo mondo nostro nel senso che noi vogliamo semplicemente che le persone vivano nel loro pieno benessere però quanto ad esempio tu sei anche esperto di micoterapia per cui quanto ad esempio invece l'integrazione dei funghi può essere d'aiuto sempre per questo benessere relativo a questa età cioè io ho sentito parlare ad esempio di funghi dell'immortalità che vengono dalla Cina piuttosto che questi che sono sempre stati chiamati appunto i funghi che potevano garantire la longevità per cui quanto è importante per mantenere un corpo sano che può permettere poi di procedere nell'esistenza con una certa sicurezza quanto è importante quanto ci possono essere d'aiuto anche non so magari qualcuno anche vegano oppure comunque ecco vorrebbe capire meglio insomma vorrebbe capire meglio quanto l'integrazione sia necessaria oppure una corretta alimentazione possa bastare ecco in questo senso i funghi che cosa ci possono allora noi come sai non proponiamo l'utilizzo di integratori di sintesi quindi di integratori intesi come farmaci ecco perché poi le fine sarebbero quello ma noi proponiamo un cambiamento dello stile di vita alimentare visto che parliamo di cibo perché comunque i funghi sono un alimento e la micoterapia è diventata una scienza perché comunque i funghi medicinali in oriente vengono utilizzati addirittura negli ospedali in campo oncologico da tantissimi anni vengono utilizzati perché sostanzialmente come è nato perché si chiamano funghi dell'immortalità perché prima di effettuare gli studi scientifici è nato dall'evidenza che le popolazioni asiatico oppure per esempio come dell'Agaricus Blasemur quindi di comunità della Piedate quindi in Brasile che consumavano questi funghi alla fine vivevano di più ed erano primi di malattie principali che magari c'erano nelle altre comunità vicine negli altri popoli vicino che non li consumavano quindi si è partita dall'aspetto osservazionale e poi da lì hanno iniziato a fare degli studi a studiare i funghi a vedere perché c'erano questi risultati con i funghi quindi nella riduzione del rischio di tumore di malattie cardiovascolari e quindi ricordiamoci l'integrazione del fungo di fatto non è un'integrazione intesa come possono intendere degli sportivi che fanno uso di integratori perché il fungo tutto sommato è un alimento quindi noi promuoviamo l'utilizzo dei funghi meno di quelli commestibili come per esempio lo shitake o il maitake o anche l'agaricus nell'alimentazione quindi di utilizzarli come complemento dell'alimentazione anche se in occidente si è sempre usato meno questo tipo di supplementazione perché diciamo abbiamo anche che si è costruito nei secoli anche l'idea anche del fungo velenoso quindi c'è stato sempre rispetto all'oriente siamo stati un po' più frenati nell'utilizzo costante nelle nostre abitudini alimentari anche dei funghi però noi li promuoviamo intanto come complemento nell'alimentazione e poi in realtà nei funghi che non sono commestibili oppure nelle patologie invece proponiamo anche la supplementazione dei funghi sono alla fine funghi che vengono essiccati macerati e incapsulati oppure estratti quando sono estratti idroalcolici delle molecole principali quindi beta-cucani e i terpeni delle molecole biologicamente attive che svolgono questa attività sul sistema immunitario quindi qual è irrazionale? Irrazionale è moltelpice per quanto riguarda gli effetti cardiovascolari ci sono dei funghi come il canoderma lucidum i resci che è molto conosciuto che hanno degli effetti importanti sul cuore nel senso che hanno voi pensate che due dei farmaci principali che si utilizzano in ambito cardiologico che sono un antipertensivo un acinibitore e le statine sono state diciamo sostanzialmente sintetizzate copiandole perché spesso la farmacologia fa così copia quello che c'è in natura dalle piante lo modifica un po' da un punto di vista biotimico per poterlo brevettare visto che non può brevettare qualcosa che c'è già in natura quindi apporta piccole modifiche che quasi sempre sono peggiorative rispetto a quello che c'è in natura però per dire come appunto nel ganoderma lucidum c'è una molecola che ha un effetto ipolipemizzante cioè basso il colesterolo che è una statina naturale e che è la lovastatina e ci sono delle sostanze che hanno un effetto antipertensivo per rimanere diciamo in tema in ambito cardiovascolare stesso discorso per lo shitake e il maitake che migliorano il profilo metabolico glicemico sempre dislipidemico e poi c'è tutto l'aspetto diciamo monostimolante e quindi va cioè i funghi hanno sono definiti molecole piante adattogene che poi non sono piante hanno un regno a parte adattogene perché adattogene perché appartengono alla classe superiore diciamo dei medicamenti perché possono essere usati per un tempo indefinito perché non hanno effetti collaterali perché si adattano alle caratteristiche del corpo che trova in quel momento e quindi cercano di mettere a posto dal punto di vista energetico dal punto di vista metabolico dal punto di vista immunologico la situazione di quel momento se vogliamo fare un esempio pratico di ciò che sto dicendo nell'ambito del sistema immunitario se una persona ha una malattia autoimmune prende i funghi non è che il fungo immunostimolante quindi per rispondere a domande che alcune volte fanno i pazienti mi stimola ancora di più il sistema immunitario no lo calma in quel caso il sistema immunitario perché da pianta adattogenea trova il problema da sola quindi l'intervento del medico non c'è in maniera diretta ma è la pianta che in quel momento si adatta e riporta equilibrio all'omeostasi come si dice in medicina porta l'equilibrio in quel paziente se un paziente invece in quel momento è immunodepresso allora il fungo in quel paziente lì esercita un effetto immunostimolante questo è il concetto di adattogenesi che è fondamentale ed è specifico vabbè specifico anche di altre piante come il ginseng oppure la shwagandha ci sono altre piante che hanno questa capacità questo effetto adattogenico per quanto riguarda invece l'attività fisica uno dei funghi che viene utilizzato ma è stato utilizzato anche in Cina da atleti professionisti che non è doping è il cordyceps sinensis che ha un effetto di migliorare l'ossigenazione adesso non entro in maniera in termini troppo tecnici parlando di mitocondri di ATP perché sennò non ci usciamo però diciamo migliora le prestazioni anche migliorando il rapporto testosterone e colesterolo e quindi senza entrare in termini troppo tecnici evita il rischio del sovrallenamento e quindi sicuramente la supplementazione ovviamente è guidata perché la micoterapia è comunque va fatta sotto controllo medico proprio perché i funghi fanno qualcosa non è che non fanno nulla è proprio perché fanno qualcosa vanno modulati in base al paziente perché possono dare interazioni anche con dei farmaci che il paziente assume quindi devono essere utilizzati quelli mangerecci no cioè se ti vuoi mangiare è di cita che non c'è bisogno che chiedi al medico però se vuoi fare una supplementazione in compresse perché vuoi ottenere uno specifico obiettivo allora è giusto farlo sotto il controllo medico quindi due funghi diciamo che faccio due nomi il ganoderma e il cordiceps sinensis potremmo definire dei funghi molto adatti anche perché lavorano in sinergia perché il resce ha un effetto antinfiammatorio ha un effetto anche cortison like ha un effetto antistaminico migliora anche diciamo il metabolismo dell'osso quindi ha tantissime proprietà un effetto immunostimolante quindi diciamo che il ganoderma lucidum è il fungo della longevità per eccellenza e quindi nel nostro contesto della longevità della promozione della longevità in salute sicuramente svolgerebbe un ruolo di primattore fondamentale e questo magari potremmo parlarne in maniera approfondita su un altro argomento per coloro che fossero interessati perché i funghi medicinali quindi quelli che possono essere utilizzati a scopo terapeutico sono diversi sono almeno una decina con caratteristiche specifiche quindi però hanno un ruolo fondamentale nelle nostre tematiche nella promozione della longevità in salute diciamo in questo tema attuale oggi dell'esercizio fisico focalizzare l'attenzione su due funghi il ganoderma lucidum e il cordiceps silensis per chi volesse approfondire magari potremmo anche parlarne sono due funghi importantissimi perché hanno un'azione io approfondirò sicuramente come? io approfondirò sicuramente ecco bravo ne farò tesoro ascolta Alberto ma questi i funghi in genere soprattutto stavi parlando di questi due cosa possono fare effettivamente per aiutarci nella gestione del nostro microbiota intestinale se abbiamo problemi di disbiosi intestinale cioè a livello di intestino essendo adattogeni possono comunque adattarsi alle varie problematiche sì allora i funghi sicuramente hanno allora i funghi se vogliamo usare un termine che viene compreso oggi da molti perché sul tema del microbiota si comincia a parlare molto dovremmo considerarli come dei prebiotici come la fibra ci consigliano di mangiare la fibra perché ha un effetto prebiotico perché nutre i batteri buoni presenti nel nostro organismo nel nostro intestino quindi l'incoraggiamento a mangiare la fibra tante motivazioni l'importanza dell'uso della fibra però uno di questi motivi importanti per consumare alimenti ricchi di fibre è anche perché hanno un'azione prebiotica cioè vanno a nutrire i batteri buoni del nostro microbiota intestinale quindi diciamo la prima azione fondamentale dei funghi è quella di avere attività prebiotica poi ci sono dei funghi che per rimanere sul tema svolto all'interno del microbiota come lo shitake che hanno un effetto antibatterico per esempio anticandida quindi un eccesso di candida intestinale che anche quella è una forma di disbiosi intestinale in coloro che consumano hanno una dieta particolarmente ricca di carboidrati di zuccheri raffinati e quindi c'è un aumento della percentuale della candida che normalmente deve stare tra il 7 l'11% del complesso del microbiota intestinale nei soggetti che hanno una dieta eccessivamente sbilanciata sul consumo di zuccheri di cibi raffinati ovviamente la candida essendo avida di zuccheri prolifera ancora di più e quindi va a utilizzare percentuali più alte quando arriva al 20% cominciamo a avere dei disturbi tra l'altro il problema della candida è che abbiamo già scoperto che i batteri intestinali determinano anche i nostri desideri anche il desiderio di cibo perché noi alleviamo mangiando i batteri del nostro intestino quindi se noi alleviamo batteri sbagliati abbiamo ancora più voglia di consumare quei cibi per esempio la candida quando a noi che è avida di zuccheri e quindi vuole continuare a mangiare di zuccheri e quando noi mangiamo degli zuccheri produce una sostanza che si chiama BDNF che è un fattore neurotrofico e ci dà gioia quindi è come se la candida nel mangiare gli zuccheri che gli diamo volesse condividere con noi parte di quella gioia e ci dà questo stimolo perché ne vuole ancora quindi noi più candida abbiamo nell'intestino più la candida determina il nostro desiderio di consumare ancora zuccheri quindi è un circuito vizioso un circolo vizioso che va interrotto quindi perché poi l'eccesso di candida a livello intestinale poi migra a livello vaginale quindi può dare anche una incidenza maggiore di candidosi anche vaginale nella donna ovviamente parliamo della donna per cui l'attività dell'uscita che per esempio è un'attività sia come prebiotica ma anche un'attività antibatterica e antifungina nei confronti di un fungo che è un fungo saprofita ma che in eccesso può diventare patogeno come la candida che è presente anche nell'intestino ricordiamo non è presente solo nella vagina delle donne ecco volevo anche dire antibatterica sul microbiota ecco perché volevo anche dire che noi faremo un seminario specifico in cui ci sarai anche tu qualche giorno quindi ci racconterai molto bene anche di questi funghi in giugno che è questo seminario diverso un po' dagli altri che è la cura e quindi non faremo non faremo questi esami del sangue così in ingresso e in uscita sarà un po' un seminario un po' più da coccola da insomma anche per qualcuno che potrebbe avere qualche patologia che potrebbe avere magari qualche difficoltà per cui anche l'attività fisica magari sarà più blanda eccetera eccetera sarà un seminario un po' diverso in cui proprio cercheremo di coccolare ancora di più le persone per aiutarle magari in un momento potrebbe essere un po' particolare della loro vita e quindi ecco questo seminario della cura sarà proprio anche allietato dalla presenza del nostro dottor Trecroci in modo che potrà raccontare bene e parlarne dei funghi fatto salvo che anche in tutti gli altri insomma avremo perché noi ci crediamo molto in questo discorso dei funghi e quindi li proponiamo un po' perché abbiamo appunto tu credo che abbia avuto come medico molte segnalazioni di risultati importanti e quindi intanto la più grande segnalazione che ho avuto dai pazienti è stata quella del dottor Trecroci paziente perché la mia esperienza personale come paziente è una patologia diciamo che per me è stata impegnativa che è stata risolta diciamo dalla micoterapia perché nel 2015 ho avuto una trivedita subacuta virale di Decker-Ven importante che non si risolveva con nulla e quindi dopo mesi di terapia cortisonica ad altissimo dosaggio che mi ha creato una serie infinita di effetti collaterali mi si era prospettata la possibilità di una tiroidectomia quindi di togliere completamente la tiroide e fare una terapia sostitutiva con l'eotirox quindi e alla fine io ho risolto questa infezione alla tiroide importante da parte di un virus che si chiama Epstein-Barr virus però sono riuscito a guarire la mia tiroidite con la micoterapia con grande meraviglia di tutti gli endocrinologi perché ne ho girati diversi con cui condividevamo le scelte terapeutiche perché ormai volevano assolutamente togliere la tiroide io ho allungato un pochino la situazione per fortuna adesso la mia tiroide che funziona perfettamente però è la mia quindi diciamo sono riuscito a tenermi la mia tiroide perfettamente funzionante e in un momento di difficoltà del mio sistema immunitario sono riuscito a sostenerlo e a risolvere il problema con la micoterapia quindi al di là di tutte le segnalazioni in campo oncologico in malattie autoimmuniche tutti i giorni nella mia pratica clinica ricevo sicuramente la mia è quella non che non creda quella dei pazienti ovviamente però la mia è stata un'esperienza molto molto forte sull'effetto della micoterapia comunque faremo secondo me faremo perché il tema dei funghi è affascinante e quindi faremo un approfondimento anche online faremo un approfondimento presto sul discorso dei funghi magari lo legheremo anche al discorso delle erbe con Stefania Filoni che mi è apparsa in questo momento insomma useremo un po' tutte le diciamo anche le capacità che la natura ci mette a disposizione ciò che sono i prodotti della natura hanno in sé una grande forza e pochi effetti collaterali quindi comunque approfondiremo bene questi temi e quindi sostanzialmente i seminari saranno uno diverso dall'altro avranno una stessa base ma potremmo proprio prenderci cura delle persone affinché ognuno potesse ritrovare la sua forza quella originaria che lo riporta ad essere ad essere quello che è stato senza avere più la tristezza del dire il tempo è passato io veramente se ricordo le facce i visi e gli occhi delle persone che sono venute le prime volte insomma i primi giorni magari con una sorta di smarrimento e sono andati via con una grandissima energia diversa forse questa è la cosa che ci ha più dato soddisfazione a tutti noi addetti ai lavori noi addetti ai lavori abbiamo fatto sì che queste persone così arrivate magari in un momento a volte anche in momenti magari un po' particolari della vita eccetera andassero via con una grande energia e tanto è vero che anche sono nostri fan perché sanno che ciò che è caduto è solo merito loro e a noi possono solo riconoscere il fatto che davvero lo facciamo con passione ecco perché diciamo che siamo un gruppo di persone che fortemente crede in questo cambiamento e allora l'energia di tutti noi messi insieme credo che faccia davvero la differenza per cui il luogo che ci ospita è uno splendore siamo immersi nella natura e noi crediamo fortemente in questo discorso tanto è vero che anche io il dottor Berrino abbiamo scritto questo libro che è la foresta di perle perché crediamo proprio che l'importanza dell'essere immersi in un contesto naturale e nella bellezza faccia la differenza sia nel caso di malattie ma anche nel caso proprio di ristabilire un equilibrio una connessione con l'intero universo che ci circonda e quindi e quindi io non so se volete chiudere con un cioè Fabio con un augurio con un io spero di 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 vedervi presto il più possibile perché veramente per ogni ogni anno poi non vedo l'ora che rinizi il seminario successivo perché veramente sono giorni per me impegnativi sicuramente perché diamo anima e corpo per per tutte le persone che partecipano però mi danno veramente tanto quindi sono impaziente non vedo l'ora non vedo l'ora di iniziare ecco quindi insomma spero che con questo con questo evento di aver di aver insomma dato qualche spunto e trasmesso un po' dell'entusiasmo che che noi abbiamo nell'avere nell'avere poi le persone ospiti e nel prenderci cura di loro ecco perfetto grazie mille Fabio invece un ultimo un ultima così un ultimo indicazione un ultimo insegnamento da parte di Umberto su questa età questa generazione questa età dell'oro che cosa davvero cioè se tu dovessi condensare tutte le persone i tuoi pazienti che hai incontrato cosa possiamo fare davvero per essere al meglio di noi stessi cosa può fare la generazione oro per essere per uscire indenne e ancora più splendida da questa età ah e quello è seguire tutti i decami della grande via perché quello che proponiamo ha delle basi solide scientifiche e quindi purtroppo la medicina ufficiale di cui io faccio parte dedica pochissimo tempo alla prevenzione anzi zero sostanzialmente quindi non c'è uno spazio dedicato e quindi i pazienti si sentono sostanzialmente soli in questo percorso perché la medicina che è forte nella cura delle patologie acute ma ti lascia solo nella prevenzione in tutto un percorso che invece è molto più importante quindi il consiglio è quello di seguire veramente queste indicazioni sulla sana alimentazione quindi riscoprire un'alimentazione che è quella che abbiamo sempre praticato della dieta mediterranea l'esercizio fisico e la via della spiritualità cioè sostanzialmente di seguire tutte le indicazioni della grande via questo questo è il trucco e il segreto per veramente per vivere la longevità in salute e stare alla larga dalle patologie quindi riuscire a star bene e a non sentire il peso degli anni ma appunto mantenere un'età biologica che ci consenta di star bene quindi di vivere bene in serenità e utilizzare il tempo poi non a curarci che è una perdita di tempo ma a fare tante cose belle perché la vita alla fine bella va vissuta in maniera intensa e quindi se viviamo il senso della prevenzione se ci prendiamo cura di noi alla fine avremo molto più tempo da utilizzare per le cose belle non a sprecarlo a doverci curare poi una volta che ha malati quindi dedichiamo del tempo a noi stessi prendiamoci cura di noi questo è il consiglio che voglio lasciare quindi spero che questo seminario sia servito come da un punto di vista motivazionale come spinta per iniziare un cambiamento che da oggi alcuni molti pochi tutti quelli che ci hanno ascoltato magari da domani possano mettere in atto questo cambiamento e prendersi cura di loro attraverso la via del movimento oggi e poi di seguirci per percorrere assieme tutte e tre le vie alla fine sostanzialmente quindi vi do appuntamento al seminario della cura a giugno io voglio dare un ultimo esercizio intanto per il primo primo compito a casa da portare da portare avanti prima di venire al seminario imparare un'attività molto divertente che ci fa ragionare sia a livello motore di coordinazione motore che cognitiva ed è molto divertente vi dovete mettere davanti allo specchio e solitamente noi siamo tutti in grado di alzare un sopracciglio ok imparare ad alzare anche quello opposto che questa è una cosa che è banale molto divertente da poter fare quindi provateci e vedrete che sono convinto che riuscirò a strapparvi un sorriso ed è insomma un'altra di quelle piccole cose che vi insegneremo a fare come lavarvi i denti con la mano sinistra tutte cose per stimolare il cervello e tenerci a livello motorio attivi perfetto allora grazie a entrambi siete stati meravigliosi grazie a tutti voi che avete ascoltato con pazienza siete arrivati fino a qui e la via della longevità felice e la generazione oro procede e avremo degli altri incontri insomma ma vogliamo raccontarvi un po' questo viaggio verso la serenità dell'accettazione di un'età che può essere meravigliosa grazie a tutti e ci vediamo il prossimo webinar no